Epico ciao ragazzi oggi siamo qui su questo episodio di minecraft di minecraft creative nel quale faremo la piscina di creeper qua vedete ci sono milioni di miliardi di creeper qua c'è questo che poi vi spiego cos'è questa roba qui non serve a un cavolo allora praticamente io entrerò qui dentro posizionerò qua un bel maialino farà schizzare via tutti i creeper e doveva quindi sopravvivere in modalità sopravvivenza naturalmente ok quindi cominciamo subito game mode 0 ok ah si è vero c'è un armatore di diamante perchè fate dei testi senza non riesco a sopravvivere più di due minuti via aaaah aaaah pigina aaaah aaaah ah si ho anche la pozione velocità ma non sembra servire molto sono tantissimi via ehm via wiihoo li sto trollando in un modo assurdo and shot and shot l'ho ucciso wiihoo quanti creeperini piccoli e carini volano qua e là i creeper da quando volano perchè c'è uno la sopra perchè sto andando in mezzo a loro aaaah aaaah cos'è successo ah sono schizzato a milioni di chilometri di distanza what's there scusatemi eh per questi errori tecnici pigmini pig ha droppato addirittura 3 costolette pig attack boom ok ratta 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 aaaah pensavo ne fossero rimasti tipo 2-3 si ragazzi abbiamo vinto già il primo round senza morire neanche una volta che boss ah si è vero non avevo pensato che magari serviva il primo va bene ragazzi il primo round l'abbiamo vinto e smettila tu di fare sta roba qui e quindi adesso prendo una testata contro il muro e ci vediamo dopo tu 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 ah un secondo devo aspettare che mi salgano i cuori infatti è un casino micidiale però secondo me uno mi sta per venire addosso tu 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 sai cosa te ne fai di questa? c'è la mano salve come te la fassi c'è la mano ciao ciao ci si ricontra eh ma che aspetta è andato? che bug ragazzi perchè tutto a loro saranno le loro uova ok ci sono così tanti che schizzano fuori da solo guarda ok shazam oddio ragazzi wiii bubu main shot ragazzi oh mio dio ah sto benissimo non è vero ok si ho una pozione non è questa salve boom ah ok ok ci sono aspettate un attimo sto mangiando non si disturbola gentilmente mangia ok ok ora possiamo cominciare non esplodono neanche si invece wiii stavolta ne ho messi tipo il triplo di prima e sono tanti ragazzi sono moltissimi molti 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 wiii uuuu boom ah ok aspettate un attimo eh ora ritorno eh ci si rincontra ragazzi miei bruttoni mi stanno circondando ma io vado di qua non si aspettano una mossa astuta che bosco che spavento ragazzi non me l'aspettavo non me l'aspettavo si no no non voglio morire nooo ok o si il letto ah l'armatura è lì la vedo ah un attimo che mi investo ok vai beh meglio che nulla un caschetto ok oh mio dio ok l'obiettivo è ucciderli tutti eh voglio uccidere anche fra di loro ma l'obiettivo è ucciderli ecco appunto questo è quello che bisogna fare boom salve gente è finito ah non l'avevo proprio visto sono morti tutti fine di già di già di nuovo va bene bene siamo sicuri che non ce n'è nessuno mi sembra più strana eh si è già finito stavo mettendo il creeper lì quando mi è venuto in mente ma perchè mettere solo creeper mettiamo anche qualche strega no boom wii perdi un cibacco strega ragazzi stre pigiiiiiii ok non è stata una bella idea mettere una strega si che è già morta per di più boom ragazzi sta lagando un pochino eh ah ma perchè ah ma mi stavo chiedendo perchè non si apriva non arrivavano più creeper ecco perchè ragazzi ecco perchè sono anche velenoso e vai e vai e vai un cavolo e vai un cavolo l'armatura ha colpito il terreno se si senti eh non dare mai sempre la colpa al terreno wow state calmi state calmi e vai e vai ehi strega su rompi non può boom 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 sono vivo stavo dicendo sono vivo ok 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 questa volta cominci ad essere davvero una cosa difficile maaa mamma mia tutto ciò che ho da dire mamma mia forte fichissimo ok cioè entriamo nel territorio nemico ragazzi oaaah e ci usciamo anche con un certo stile ok ok qua c'è un blocco che ho messo male e la mia armature tutta la mia roba sta qua ule ok la metto stavo indossando voglio indossare pig povero pig 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 esploso non mi dispiace affatto succede sempre così wiii ok è rimasta soltanto la selega maledetta che ucciderò con creeper col creeper boom no ne sono rimaste altre molte creeper yeee goloso bastone 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 chi c'è rimasto ci sei ancora tu maledetta la devo uccidere sennò il gioco non è valido is is sparta no non sembra funzionare molto uh non ci chiedono mi fa più fat ok devo ucciderla sta qui perché sennò poi non va bene tutto e bla 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 sapete no le regole del gioco rompo ok muore 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 tataratatatan non ti voglio più vedere in faccia perché sei bruttissima fino a poi dovrebbe morire no sto usando La super energia Ma cosa è la super energia? Adesso l'ammazzo L'ammazzo di brutto Di brutto attacco dei cieli Se fatto così in teoria di fare più danno Ma non è una cosa scerta Ok mi ha fatto male Morisci Uh non ti chiedo se è velenata da sola Sì Giusto? No Se la faccio uccidere prima o poi Mio dio che noia Saprei proprio come ucciderle I creeper sono morti tutti Si è velenata da sola che cretina È l'occasione È l'occasione di una vita ragazzi Adesso la massacro Adesso la massacro in un modo scena No Mi stavo sbagliando Come faccio uccidere leia? Forse so come Ehi tu Hai qualcosa da dire prima di morire? Ecco cosa succede a chi si mette contro di me Ok ragazzi Questo era minecraft creative La piscina di creeper Boom handshot Vero creeper Esplode adesso Esplode Vabbè Quindi questo ragazzo era la piscina di creeper E noi ci vediamo nel prossimo episodio Quindi ciao ragazzi Grazie.